Ciao a tutti e bentornati al mio canale Assistenza Informatica Online. Allora, oggi in questo video ci soffermeremo soltanto sul significato di una parola veramente, veramente piccolissima. La parola di cui vi sto parlando è, il vocabolo insomma è fix, quindi proprio, diciamo, voglio indirizzare questo video e attenzionare questa parola in particolare, quindi la parola presente è fix, quindi dall'inglese significa sistemare, riparare, insomma questo di qui. Ora perché, insomma, non vi metto in allarme, però vi dico sempre di prestare massima attenzione quando andate a scaricare un qualsiasi tipo di programma il cui nome contiene questa parola fix. Perché vi dico questo? Perché comunque con tutti gli anni che ho io, insomma, di esperienze come tecnico hardware, questa parola che troviamo in questi programmi di solito è legata proprio alla riparazione, quindi si trova soprattutto un vocabolo che si trova soprattutto nei software, quindi nei programmi per pc o anche per smartphone. Perché vi dico di stare attenti a questi programmi? Intanto secondo me, sempre a mio parere, quindi voi potete sempre scaricarli liberamente, secondo me, dopo tutta l'esperienza che ho alle spalle e dopo averli comunque anche testati, vi posso dire che tutti questi programmi che contengono questa parola fix, quindi riparare, risolvere i problemi così come se fosse come uno schiocco di dito si potesse risolvere un qualsiasi problema a livello software, quindi per intenderci possiamo trovare questa parolina su programmi che promettono di decriptare le password da sistemi operativi, se noi le abbiamo magicamente dimenticati, o da file RAR, quindi da file zippati, dimentichiamo la password che magari abbiamo inserito perché erano dei file, diciamo, a cui tenevamo veramente molto, abbiamo inserito una password, l'abbiamo dimenticata e magicamente il programma può contenere questa frase perché decripita facilmente la password. Il Windows, praticamente per motivi di virus non si avvia più e lo troveremo anche, la parola fix, in maniera semplice con uno schiocco di dito si ripara Windows, quindi per ente questa parolina fix, la ritroveremo su tutti quei programmi, software che si possono scaricare online, soprattutto se si possono scaricare a pagamento, perché proprio lì sta il problema. La ritroveremo lì, quindi non sono dei classici software, non sono altro che dei classici software che promettono la riparazione dei sistemi operativi o il recupero di tutte quelle password che abbiamo noi dimenticato. Allora, quello che vi ho detto io è che li ho testati questi programmi e fino ad oggi non c'è stato un programma, dico solo un programma, che abbia fatto quello che prometteva realmente. Quindi in questo caso, come altri video che ho fatto, che non esiste nessun programma che possa velocizzare il computer, perché non esistono, come non esistono, programmi che da soli con uno schiocco semplice di dita possono riparare i computer, vi possono decriptare le password che noi dimentichiamo. Capite bene benissimamente, insomma, che è troppo semplice, insomma, che qualcuno inventi qualche programma che così in maniera veramente semplice con l'installazione di un software, dando un avvio, riesce a decriptare le password, perché secondo me la stessa logica porta a dire io mi registro, per esempio, su un social network o qualsiasi, allora qualsiasi persona potrebbe benissimamente andare a scaricare questo software, andare a decriptare le password in maniera semplice, ma in che mondo si viverebbe se con uno schiocco di dita, quindi con l'installazione di un software immediatamente possiamo recuperare tutte le password. Questo non vale solo delle password dei social network, ma vale anche, abbiamo detto poc'anzi, dei file famosi zippati. Quindi se io devo mandare un file che contiene documenti personali, anche delle carte d'identità dove ci sono numeri di telefono, indirizzi, indirizzo civico, eccetera, eccetera, tutti i dati sensibili e lo voglio andare a proteggere con la password, che senso ha che è un programma bellissimo come WeRare che mi permetta, WinZip che mi permette comunque andare a mettere una password per non far aprire quel file a nessuno, se non solo al destinatario, quindi alla persona a cui mandiamo questo file, e magicamente un altro programma in maniera semplice riesce a decriptarmi subito quella password, cioè veramente si vivrebbe in maniera, cioè con un'ansia impressionante, perché se è così semplice andare a decriptare le password, allora tanto vale che noi non utilizziamo nemmeno più il computer, perché chiunque potrebbe insomma accedere alle nostre password, già per questo il programma secondo me, tutti quei programmi che contengono questa frase, completamente non devono essere scaricati o per meno, per quanto dire per me, non sono completamente consigliabili, sono assolutamente sconsigliabili loro download. Poi, avete fatto caso a tutti questi programmi e comunque non permettono mai di scaricare la prova del programma in maniera totale? Non lo permette nessuno, questo perché? Questo è un altro punto per dire, non per peccare di presunzione, a favore mia, a sfavore loro, perché loro permettono di scaricare, quindi sto parlando in generale di tutti questi programmi, permettono sempre di scaricare una versione ovviamente gratuita, però sempre bloccata. Mi spiego meglio, se dobbiamo andare a noi ad aprire questo sempre, prendiamo ad esempio sempre il nostro file RAR, abbiamo un file RAR di cui abbiamo dimenticato la password, o anche che abbiamo, che siamo riusciti a capire da un altro computer, quindi che nemmeno è nostro, quindi vogliamo sapere cosa c'è all'interno di quella macchina, che nemmeno è nostro, quindi noi nemmeno dobbiamo, possiamo entrare su quel file e nemmeno ci dovrebbe interessare entrare sul file di altre persone. Comunque faccio finta che veniamo in possesso di questo file, magicamente scarichiamo questa demo di questo programma, apriamo, installiamo il programma e magicamente però il programma dirà che troverà soltanto le prime due, tre lettere della password che noi abbiamo dimenticato, che quella persona X ha dimenticato, che non fa sempre vedere, perché giustamente non si sa se quelle password sono esatte o no, sicuramente al 100% sono errate, però loro in gergo sì, cioè si mettono il ferro di tre una volta, quindi già si incominciano a parare tutti questi programmi e questi software, dicono che danno soltanto in prova solo le prime due, tre lettere, che per avere il resto della password dobbiamo comunque magicamente pagare. Quindi secondo me il risultato finale è prendere dei soldi agli utenti finali per poi insomma dare il resto della password. Ovviamente così non è, perché abbiamo detto che è difficilissimo, soprattutto con le password che si creano ora, quindi miscelate, già ne abbiamo parlato in video precedenti, quindi miscelate fra caratteri grandi, caratteri minuscoli, maiuscoli, speciali, quindi come possono essere il punto esclamativo, piuttosto che un cancelletto o un asterisco, diventa veramente ancora più complicato per altri programmi andare a decryptare tutte queste puzzle. Se voi fate ancora più caso dentro questi siti c'è sempre quella famosa frase, scritta magari in piccolino, anche in grande, quello che sia, che dirà che tutti questi software funzionano sempre su per giù con una percentuale del in versione free del 40%, 30% quindi buttando sempre a terra la loro versione free e invece mettendo a un 98% o quello che sia il 97% la versione free a pagamento. Il che che significa? Che loro garantiscono insomma tramite sito che su 100 password insomma che sono bloccate almeno 97 le riuscirebbero ad aprire, quelle 3 no. Però vi posso garantire sempre per esperienza personale che poi sarà un lavoro diverso, quindi questo 3% che tutte queste aziende dicono che il lavoro può effettivamente non riuscire, poi magicamente sarà questo 3%, diventerà il 97%, quindi si capovolgerà proprio perché è difficile andare a costruire un software che possa decriptare tutte queste password, possa come ho detto prima con uno schiocco di dita, con una semplice installazione di un programma, risolvere tutti questi problemi, quindi fissare, riparare tutti questi problemi nei nostri pc, quindi magicamente il 97% che è positivo per loro invece sarà la parte negativa perché sicuramente non decripetterà un bel niente. Quindi sempre questo video è stato fatto sotto forma di insomma creare una specie di attenzione, attenzionare a tutti quei software che contengono la parola fix, insomma io sempre dico state nella larga, però ovviamente ognuno può fare quello che vuole perché comunque ognuno con i propri soldi può fare quello che vuole. Per esperienza personale, già sapendo che ovviamente non avrebbe risolto il problema, però per esperienza personale, essendo che un canale deve sempre testare questi programmi, vi posso dire che sono state puntate vari programmi di varie case, quindi in maniera più ampia è stato fatto il test, è stato fatto più volte ripetutamente, vi posso dire che su una cinquantina di volte questi programmi hanno testato dei file, tutte e cinquanta volte hanno fallito. Quindi ragazzi che vi posso dire, se volete potete fra virgolette andare a buttare tutti questi soldi su questi programmini che contengono questa famosa parolina fix, quindi risolvere il problema, fate come volete, il consiglio che vi do è sempre di starne alla larga. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto, al prossimo video.